. . Vittorio Cecchigori, lei ha lavorato con Harvey Weinstein. E che facciamo? Non vivo più negli Stati Uniti, prima sapevo tutto, ora meno. Però lo conosce bene. . Sì, ma non lo vedo da un paio di anni. Non è molto. Ma lui è sempre stato così. . Così, come?. Uno abilissimo, se ne intende di cinema, è molto filibustiere. . Sotto quale profilo?. Rispetto agli affari. Abel Ferrara definisce il cinema statunitense un circolo di gangster. . È una tradizione dell'America, non solo del cinema. . La storia delle mele marce racconta che le altre del cestino vengono bacate. . Sono abili. Chi? Questi filibustieri. . Il problema è che la loro abilità viene usata per le magagne, le prepotenze. . Una persona per ben non si mette a inseguire una donna. . Insomma, Weinstein è una mela marcia. . Un avventuriero. E rispetto alle donne?. Non è mica solo lui, anche se la fama del cialtronee avventuriero elle ha sempre avuta. . In Italia diremmo puttaniere. . Weinstein in Italia. . È sbarcato diverse volte, veniva da noi e acquistava i diritti dei film, è stato il primo a capire la forza del nostro cinema come prodotto da esportare. . E in quel caso elle ho conosciuto, grazie a delle coproduzioni. . . Mai toccato elle argomento? Mai?. . No, però mi sono accorto del suo essere un fanfarone e bugiardo. . Pure scorretto, e due o tre volte elle ho pizzicato in situazioni concrete. . Ci pensa un attimo, ribadisco, non è elle unico avventuriero nel mondo del cinema. . 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